Vi ricordate no? Vi ricordate all'andata di Rino Geno 1-0, un certo Nemanja Radunic, vi ricordate no? Adesso Radunic è sul mercato perché ha litigato con l'allenatore e forse va addirittura al Monza. Voi ditemi se è normale questa cosa, voi spiegatemi se nella Serie A, io se questa cosa ci continuo, ci marcio, lo ribadisco, non me ne frega un cazzo perché lo ribadisco, voi ditemi se è normale che in Serie A, non all'oratorio, non nei direttanti, non in terza categoria, in Serie A ci sono dei professionisti che sono delle persone che vengono pagate fior fior di milioni, milioni di euro, centinaia di milioni, centinaia di migliaia di euro al mese, centinaia di migliaia di euro al mese, guadagnano i milioni di euro e per dei loro litigi fra di loro la mettono in culo alla società per cui lavorano. Perché, ragazzi, ripeto, e su questo punto mi spiace ma non ci si scosta, non è soggettivo, Radunic, che può piacere o meno, dal punto di vista intendo sul campo tecnico-tattico, non è un fenomeno mondiale, però è una cazzo di carta che al toro manca, è una carta che sarebbe utile a qualsiasi squadra, a qualsiasi squadra, quantomeno della pasta, della qualità attuale del toro, ma anche di più, fino ad arrivare alla Lazio, anche secondo me, magari non è un giocatore da big, non lo so, non lo so, è assurdo che questa carta, che ha pure dimostrato di essere utile, se non fondamentale, noi non possiamo usarla perché hanno litigato fra di loro queste due persone. Giorno Torino, è la prima del Giorno di ritorno, la classifica è potenzialmente gravanizzante, una vittoria ci porterebbe a 30 punti, vorrebbe dire se è il settimo posto momentaneo, il Giorno, la squadra in questo momento assolutamente blanda, scarsoide, che è vero che magari non perde da quattro partite, ma perché le pareggiano, no, forse l'ultima ha perso, comunque, ha 21 punti, ha questo Malinos, insomma c'ha Malinos, Gudmund, un solitore di Reteghi, bah, ho capito, qualcosina è, non è proprio la San Giovannese, va bene, però siamo a Genova, ok, è un campo dove molte squadre hanno qualche modus offerto, non importa, noi dobbiamo andare lì con l'atteggiamento che c'è contro il distinto, che abbiamo ottenuto e che io ho, l'ho dato, delle ultime 5 partite, la formazione è al completo, torno a Tamez, Juric parlerà oggi in conferenza stampa, ma non mi può fottere un cazzo, per quanto riguarda appunto rientri dentro Tamez, dovrebbe giocare Savic, Tamez può un gioco in Rodri che è in difesa, sulle fasce ho detto che giocherà probabilmente voi, vediamo a me che giochi voi, vediamo che giocare a Zardo, ha fottuto un cazzo, basta che si svegli. L'Azzaro è già sveglio, niente di che, a me L'Azzaro non dispiace potenzialmente, L'Azzaro secondo me ha più potenziale, ma a quanto pare ha meno testa, è troppo blando, troppo svogliato, cioè è svogliato, non è svogliato e non ha testa. Ricilic, poi punto Bellanova d'altra parte, alla Bellanova sveglio e sveglio, cioè nel senso è una mina vagante, è caotico, a me c'è il caos, il caotismo sulla fascia tra l'altro, mi va anche bene, secondo me è utile, ma a questo caotismo Bellanova deve abbinare una maggiore precisione nel cross e porca puttana devono allenarlo nel dribbling, perché Bellanova non ha il dribbling, questo paradossale buon controllo palla in falcata, ha la buona falcata chiaramente, ha il dinamismo, l'atletismo, quello non si mette in dubbio, però non ha il dribbling secco, secondo me una fascia deve comunque avere un dribbling più secco, e poi in mezzo i cross, ripeto, come ho detto altra volta, non è che non li sanno fare, però devono allenarsi nella sincronia, nel movimento in mezzo, Franchi cross è chiesto in mezzo, perché non è possibile che su 30 cross che facciamo a partita, porca troia, 27 e mezzo, li prende l'avversario. Poi è vero che l'ultima partita con Napoli abbiamo fatto gol su testa di Buongiorno, che è un giocatore, devo dire, fenomenale, più di quello che si pensava, sinceramente, al di là dell'empatia grande e buona che abbiamo per lui, però è un giocatore veramente forte. Alla fine del video faccio il pronostico, calciomercato, ripeto, su Radonich ho già detto addirittura al Monza, guarda veramente, se Radonich va al Monza, io metaforicamente spacco tutto e qua sul web, qua sul web faccio qualcosa di eclatante, mi sa, perché se Radonich non solo va via, ma va al Monza, la squadra da me più odiata, tra virgolette sportivamente parlando, in questo momento in Serie A, sì, il Monza, io veramente, ragazzi, allora, il Monza mi sta profondamente sul cazzo, per motivi che sappiamo, il Monza veramente mi sta sul cazzo, cazzo di Brianzoli, la squadra, non le persone, la squadra del Monza, veramente mi incazza. Poi, buongiorno, c'è chiaro che ho fatto l'intervista a Radio 1, quello che è, ha detto, no, buongiorno rimane, ok, beh ci mancherebbe fino al 2028, dopo quello che ha fatto in passato con buongiorno, dopo quello che è successo, vuol dire che un buongiorno, direi che deve rimanere coce, poi può essere tutto, però, sinceramente, voi vi immaginate il buongiorno che va via dal toro? Dai, cioè, non avrebbe senso. Ha lottato come un canguro per rimanere, vi ricordate, quando doveva andare all'Atalanta, cioè, e comunque è vero che l'Atalanta magari non è, che ne so, il Napoli, il Milan, però, credo, sinceramente, rimanga. Questione SEC. Io, ripeto, su SEC non sono d'accordo sotto diversi aspetti, abbiamo parlato in una puntata del Torocast, ovviamente in diretta, con Bossa Mai, Francesca Di Fazio, io, per quanto riguarda la questione giudiziaria, sono sempre per la presunta partenza della presunta innocenza, non lo so, c'è una delle cose che non mi quadrano su SEC, però, se fossi colpevole di quella cosa lì, è una cosa grave, giustamente non sarei, però non è d'accordo, ovviamente si parla di revenge porn, eccetera, lo sapete. Questione campo. Sai che secondo me potrebbe dare di più un giocatore che però non viene utilizzato, ci può stare, è chiaro che, non giocando, chiaramente non puoi rendere, questo è chiaro, questa cosa dovete ficcare in testa, nel senso che non si può valutare, cioè il punto è questo, Karamosek, Pellegri di più, comunque anche Pellegri, non si possono valutare, è scarso, per quel poco che gioca non si può valutare, ma non perché in sé gioca poco, ma perché non entra in condizioni neanche mentale, quindi non ha senso, non ha senso, non ha senso. Forse va al Palermo, questione Colombo, questione Colombo, giocatore 2002 del Milan, in prestito al Monza, che potrebbe venire la tua prossima, da me non convincono, sono qui nomi che a me non convincono, mi sembra un nome non male per stare in una blanda mediocrità, poi c'è un terzino sinistro, faccio sinistro a Caio Baiano, di un giocatore brasiliano, che non so chi sia, classe pro 2003, l'età ok, 21 anni però, boh, non lo so, e poi c'è l'affare Doiga, che sinceramente mi ha anche rotti i coglioni, che potrebbe dipendere da Radonic, piuttosto vado al Verona a Radonic, che è paradossale, veramente un giocatore come Radonic a Verona, però piuttosto a Verona, ma non in Monza, anche perché il Monza è la nostra diretta concorrente, a quanto pare incredibilmente, il Verona no, quindi voglio dire, se proprio dobbiamo, a meno che Monza non ti dia Colpani, no, e poi basta, perché in effetti il Monza mi fa cagare, non c'è nessun giocatore che mi piace, forse Colpani, che per adesso sta sottorrendendo, io ce l'ho fatto a calcio, torna Toure, è tornato Toure, ce l'ho fatto a calcio nell'Atalanta, ricordatevi di mettere la formazione, ci vediamo per il post partita, chiaramente domani sera, e poi ragazzi, la puntata misteri misteri, diciamo del Toro, di cui non svelo il titolo, se non all'ultimo, non sarà lunedì, ma sarà questo giovedì, questo lunedì, adesso il titolo lo metterò, sarà la puntata in cui metterò il titolo, e tutto quanto, Genua Torino, 1 a 2,